e a farci morire noi saremo qui e vi porteremoci i palazzi e ci riprendiamo tutto il potele che è nostro siamo tanti, siamo più di loro, non siamo a nient'anni noi ragazzi lo succediamo da tantissimi anni che il palazzo di Campi Industria fosse espugnato grazie, che non vantissimi